la fotografia quest'anno mi occorreva una foto per un documento non so in altre città ma da noi in provincia farsi fare una fotografia per tessera non è una cosa semplice normale da noi esiste soltanto la fotografia artistica che oltre ai singoli cittadini ritrae anche gruppi e cerimonie ufficiali ed è forse per questo che bisogna attendere molto tempo prima di veder soddisfatte le proprie ordinazioni così essendo io piuttosto un soggetto singolo che non un gruppo o una cerimonia ufficiale mi premonì per tempo e mi feci fotografare due mesi prima del termine stabilito quando mi consegnarono le foto mi stupì di come fossi riuscito così poco rassomigliante avevo davanti a me un soggetto in età avanzata e dall'aspetto tutt'altro che attraente dissi alla donna che mi consegnò le foto come mai fotografate la gente in questo modo guardate che linee che rughe attraversano tutta la faccia quella disse è una foto normalissima bisogna soltanto tener conto che il nostro ritoccatore è sotto mutua ma nessuno riuscirà a cancellare i difetti del vostro poco fotogenico sembiante il fotografo da dietro una portiera disse che cosa ancora da protestare quello sfacciato dissi mi avete fatto una pessima fotografia egregio amico mi avete cambiato i connotati sono forse io questo il fotografo disse io fotografo gli artisti dell'operetta e quelli non si sono mai lamentati e ora arriva lui ha troppe rughe l'obiettivo riprende con grande nitidezza quasi a rilievo non conoscete la tecnica e pretendete pure di criticare io dissi ma che me ne faccio io del rilievo sul viso mettetevi un po nei miei panni vorrei essere fotografato come sono da potermi guardare il fotografo disse ah ha bisogno di guardarsi non basta che l'abbiamo fotografato vuole anche guardarsi e fa i caprizi in questi tempi cerca i difetti no mi dispiace di avervi fotografato così bene un'altra volta vi ritrarrò in modo da farvi star male ogni volta che vi guardate no non mi misi a litigare con lui non ha importanza dissi come sia la foto su un documento e poi tutti possono vedermi come sono in realtà con queste riflessioni mi presentai al commissariato messaggente della milizia cominciò a incollare la fotografia sul mio documento poi disse secondo me questo non siete voi come dissi non sono io vi assicuro che sono proprio io chiedetelo al fotografo ve lo confermerà l'insaggente disse in ogni caso chiedelo al fotografo che cambia no io voglio vedere nella foto la persona indicata senza attestati del fotografo ma qui vedo decisamente un altro un tipo che ha avuto il tifo petecchiale gli mancano perfino le guance tornate a rifotografarvi compagno capo dissi mettetevi nei miei panni no no disse io non voglio sentire altro rifotografatevi corro allo studio fotografico di quel fotografo vedete come fotografate male i vostri prodotti non attaccano il fotografo dice sono prodotti del tutto normale ma certo bisogna tenere presente che nel vostro caso non abbiamo utilizzato tutta l'illuminazione abbiamo fotografato con una sola lampada è così che sulla vostra faccia sono cadute delle ombre che l'hanno un po oscurata ma non l'hanno oscurata al punto che non si possa vedere niente ecco qua vedete le orecchie come sono venute bene beh le orecchie vanno bene ma le guance dove sono le guance dico devono essere considerate parte integrante del volto umano il fotografo dice non lo so le vostre guance non le abbiamo toccate noi abbiamo le nostre e allora dico dove sono le mie guance sono stato due settimane in una casa di riposo sono ingrassato di quattro chili e voi ecco qui con la vostra fotografia sa il diavolo come mi avete combinato il fotografo dice ma insomma credete forse che me le sia prese io le vostre guance è evidente vi si è detto a chiare lettere sono finite in una zona d'ombra per questo non sono venute io dico e come faccio allora senza guance dice come volete non vi rifotograferò se dovesse rifotografare tutti perderai il premio e non eseguirai il piano e a me il piano preme molto di più della vostra poco fotogenica faccia i clienti mi dicono non fate arrabbiare il fotografo altrimenti ci fotograferà ancora peggio uno dei clienti mi dice egregio andate al mercato lì c'è il fotografo che lavora con la pusca corro al mercato trovo il fotografo quello dice no io fotografo solo chi porta con sé la pellicola senza pellicola non vi presentate nemmeno non vi fotografo io fotografo chi ha la pellicola ma se avete un materasso allora sì posso anche fotografarvi è venuta a trovarmi una zia da barnaul e non so dove farla dormire volevo andarmene quando sento un venditore che mi chiama su vieni al mio negozio ho del materiale già pronto guardo su un giornale sono sparse fotografie già pronte di tutti i tipi ce ne sono 300 il venditore dice scegliene una qualsiasi e facci quello che vuoi puoi anche appiccicartela sulla fronte aspetta te la scelgo io come la vuoi secondo la grandezza o secondo la somiglianza secondo la somiglianza dico solo scegliene una che abbia le guance certo anche con le guance solo che costano 5 rubli in più no prendi questa fotografia non ne troverai una migliore ci sono le guance e non si può dire che manchi del tutto la somiglianza pago 30 rubli per due fotografie e mi avvio al commissariato il saggente della milizia comincia a incollare la mia foto poi dice ma questa è una femmina come dico una femmina è un uomo in giacca il saggente dice ma che diavolo d'uomo è se sul petto ha una spilla e da questa spilla deduco appunto che si tratta di una femmina guardo anch'io la foto vedo effettivamente una donna ha la blusa di cotone sotto la giacca sul petto ha una spilla con paesaggio ma la pettinatura è maschile e le guance sono le mie il saggente dice ripresentatevi qui con due fotografie autentiche ma ricordatevi se ancora una volta venite qui con foto di donne o bambini dubito che uscirete più di qui al momento che mi viene il sospetto che vogliate nascondervi sotto un'altra identità trascorsi un'intera settimana come immerso nella nebbia mi affannai alla ricerca di un posto dove farmi fotografare l'ottavo giorno parlando con un fotografo mi senti male allora mi portarono in un giardino e mi distesero sull'erba perché l'aria fresca mi facesse riprendere tornando in me mi recai al commissariato deposi sul tavolo le mie fotografie quelle senza guance e dissi al sergente ecco tutto quello che ho compagno capo e non è previsto niente altro il sergente guardò le fotografie poi me e disse ecco ora non c'è male assomigliano volevo dirgli che non mi ero affatto rifotografato poi mi do un'occhiata allo specchio e vedo che effettivamente adesso c'è una certa somiglianza adesso c'è il sergente dice e anche se nella foto siete un po più spelacchiato che non di persona però dice penso che tra un anno sarete uguale io dico lo sarò ancora prima perché ho bisogno di altre fotografie per i documenti di circolazione per la tessera sindacale e poi per spedirle ai miei parenti a questo punto il sergente incollò la mia foto sul passaporto e si felicitò calorosamente con me per il rilascio del medesimo grazie a tutti